Il Signore sia con voi. Il Signore è vicino. Non angustiatevi per nulla, ma in ogni necessità esponete a Dio le vostre richieste con preghiere, suppliche e ringraziamenti. E la pace di Dio che sorpassa ogni intelligenza custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù. Parola del Signore. Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, che ci affidi le risorse e l'energia del creato, perché ci aiutiamo l'uno l'altro in operosa concordia. Esaudisci le nostre preghiere e benedici noi e le opere delle nostre mani e fa che, riconoscendo in te il sumo bene, instauriamo rapporti di amicizia e di fraternità. Per Cristo nostro Signore. Poi i vostri getti sacri benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Non sono venuto per i giusti, ma per i peccatori. Essere medico e i sani, ma i malati. Venite a me, non solo quando siete buoni, quando va tutto bene, ma quando siete stanchi. Siete nel peccato, venite a me. Grazie perché tu ci accogli. sia perché l'amore del Signore è così grande e misericordioso, perché il cuore del Signore è così largo. Gesù accresci mia fede, per credere al tuo amore, per credere che Dio mi ama, che Dio mi perdona. Gesù, grazie per il tuo amore. Gesù, grazie per il tuo amore. Gesù accresci la mia fede, che a Dio nulla è impossibile. Gesù accresci la mia fede nella providenza di Dio. Gesù accresci la mia fede e la fiducia in te, Signore, così che non mi preoccupo angosciamente. Gesù, io credo. Gesù, confido in Te. Gesù. 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 Grazie a tutti. Alleluia, 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 Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, 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 Alleluia. Alleluia, 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 Alleluia. Alleluia, 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 Alleluia. Alleluia, Alleluia. Alleluia, 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 Alleluia. Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia. Grazie Gesù. Grazie Gesù, grazie Gesù, grazie Gesù. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Grazie Gesù, grazie Gesù, grazie Gesù. Applausi Gesù, grazie Gesù, grazie Gesù, grazie Gesù. Facci solo usare le cose, fare quello che è necessario e non essere schiavi all'avidità. Gesù liberaci, liberaci da qualsiasi influenza negativa. Signore, tu ci inviti ad accettare la croce, perché accettare la croce è la via, la pace. Gesù dammi questa grazia di accettarmi così come sono, di accettare la persona con quale vivo, di accettarla proprio così come tutte le persone con quale viviamo, di accettarli proprio così come sono. Gesù dammi questa grazia di accettare la croce, di accettare quello che è difficile, doloroso, di accettare malattia, handicap, la sconfitta, la perdita delle cose e persone care. Gesù dammi, grazie ad accettare la croce. E ti presentiamo anche le persone malate al corpo e all'anima. Gesù benedici loro. Donna di tua pace. Pariscere Gesù. Il Signore sia con voi. Benedicato. Benedicato. Spiritus Sanctus. No. Grazie a tutti.